Buonasera a tutti, siamo qua a presentare il primo incontro di campionato di questa Sisley Volley. La nostra versaria sarà la Yoga Volley for Lee, squadra che andremo ad analizzare adesso e che vi presenterò in quelle che probabilmente sarà la composizione del sestetto base. Una squadra che ha nel palleggiatore Davide Saite, innanzitutto un ragazzo che proviene dai nostri settori giovanili. Ragazzo di grande talento che è chiamato ad esprimere una stagione di continuità e di dimostrazione di quelle che sono le sue grandi potenzialità. L'opposto è il vero punto di forza di questa squadra, si tratta di Guillermo Falasca, un giocatore che è stato campione d'Europa con la propria nazionale nel 2007 che è la Spagna. Nel campionato europeo ha vinto sorpresa, finalmente rientra al massimo della sua efficienza fisica dopo le ultime due travagliate stagioni dovute a problemi fisici. Per quello che riguarda il parco dei schiacciatori è una squadra che può vantare su tre schiacciatori più o meno dello stesso livello. Uno è Toni Kovacevic, che è una vecchia conoscenza di Sisley Volley, avendo fatto parte della Sisley nelle sue prime esperienze nel campionato italiano. L'altro schiacciatore è Diachkov, un ragazzo che proviene da Loreto dopo la prima sfortunata stagione in A1 conclusa con la retrocessione della sua squadra. È comunque un ragazzo di sicuro talento e di sicuro valore. È una coppia di schiacciatori equilibrata che può vantare sull'apporto e l'aiuto di un terzo schiacciatore che è Jasmin Couturic, che viene dall'esperienza del fine campionato con Modena. È un ragazzo di grande esperienza, di grande equilibrio, i classici giocatori d'ordine che sanno fare abbastanza bene un po' tutto, dalla ricezione, dall'attacco e via discorrendo. Per quello che riguarda la coppia di centrali, sono due ragazzi sicuramente uno di grandissima esperienza come Vigor Bubolenta, che è il capitano anche della squadra e l'altro è Oivannen, un ragazzo finlandese che è cresciuto alla scuola del proprio coach della nazionale che è Mauro Berrutto che allena anche Macerata in questa stagione che va ad iniziare. Sono sicuramente due centrali che si completano, uno molto più forte in attacco, l'altro un po' più equilibrato a muro, sicuramente molto bravo in battuta Oivannen, mentre Bubolenta saprà sicuramente mettere a vantaggio la propria squadra la sua grandissima esperienza nel campionato italiano, sendo arrivato, credo, alla sua diciottesima stagione nel primo campionato. Cosa dovremmo fare per vincere questo match? Innanzitutto dovremmo affrontarlo con la giusta determinazione che richiede soprattutto il fatto di trovarci alla prima giornata di campionato. La prima giornata di campionato che nasconde sempre delle insidie particolari, vuoi perché le squadre si conoscono fino a un certo punto, vuoi perché sicuramente la motivazione la fa da padrone, sicuramente Forlì sarà molto motivata per venire a far bene a Treviso, cercare il colpo a sorpresa. Per quello che ci riguarda, noi siamo consapevoli della nostra forza, noi siamo consapevoli che dobbiamo affrontare questo match al massimo della concentrazione, noi siamo consapevoli del fatto che per battere Forlì dovremo sicuramente giocare nella nostra migliore pallavolo per quello che possiamo in questo momento di inizio stagione, perché con questo sistema di gioco le insidie che può nascondere qualsiasi match sono nascoste dietro l'angolo e non bisogna assolutamente sottovalutare nessuno. Sarebbe un grosso errore da parte nostra sottovalutare questo primo impegno e non affrontarlo con la giusta dose di concentrazione e attenzione. Dal punto di vista tecnico cercheremo di far valere sicuramente il nostro servizio, che sarà quest'anno un'arma in più, ancora di più rispetto allo scorso anno e la nostra fase di mur difesa che sicuramente sarà molto agguerrita per tutta la stagione.